ho appena finito di montare un video che uscirà a luglio e adesso mi sto preparando perché dobbiamo andare a un comic con allo zoo di fasano allo zoo safari quindi quindi qua vedete la mia coscia quel mio pigiama bello di harry potter e niente adesso tra un poco dobbiamo andarcene appena fatto colazione mi sono mangiato un cazzo di tost vabbè si va al comic con oppure vestito faccio il cosplay oggi siamo arrivati e la situazione è questa cioè ci sono le giostre in movimento e noi siamo in una coda infinita andiamo al concerto di gianni morandi dove si va andiamo al concerto di gianni morandi modellini delle chiese come al sol ok siamo dentro poi questo nuovo l'hanno rotto cazzo c'è giuseppe che cazzo è giuseppe ecco qua no ma le stanno rompendo tutto qua c'erano cazzo c'erano ci stanno rompendo tutti guarda che bello che viado ma che cazzo stanno nazionale carammati pronti per la guerra quello non c'era però quale il nuovo giostre robe giostre tante giostre troppe giostre lì c'erano taranto pure figata ma c'è la luce divina ma che è c'è la luce troppa luce c'è la luce di bellissimo non è colpa mia per la qualità c'è la luce divina oggi ancora un botto di gente c'è ancora un botto di niente è molto bello vorrei dire che è soltanto una figata c'è un casino assurdo ma dobbiamo mettere lì dentro c'è una mascherina poi la mascherina ce l'hai c'è la cosa di Harry Potter qua la giostra ma che coda sta ed è partito uno c'è una saca mezza rotta ma questa non ci interessa paura eh paura tu l'hai deciso di fare eh signor figata il panorama da qui e poi sono loro le pecore no i bidoni si sono molto po' gli anelli cioè quello di grutto bello sono i trasformer sono i trasformer sono i trasformer che è bellissima se lo vede io l'ho appena fatta sta giostra Sì Comunque dobbiamo andare a trovare Nick Radogna che si dovrebbe trovare Da quelle parti E c'è anche Un'altra persona molto famosa Che non conosco Ma mia sorella conosce Quindi andiamo a trovare E paura Cazzi Ci sono le cose grosse Questa non so se è vera Poi non la so Ma che c'è È simpare È bellissimo Perché lo vogliono attirare Guardi ma là c'è n'è un altro Oh attenzione Che cazzo sto facendo Attenzione parte all'assalto Parte all'assalto Cazzo sta facendo Non è la salire Ma che sta facendo Ma che sta facendo È stato bravo È stato bravo È stato bravo C'è un'altra scimmia là E l'altra è scomparsa Ma che c'è un'altra scimmia là Ma non lo so capito ma Si sta muovendo È una cosa enorme Cioè è enorme È una cosa enorme Ci sono le scimmie Quale grandi Cazzo fa No Si si è nascosta Brutta persona Passano gli altri Belle Che cazzo Che cazzo fissi Sta scena Passano gli altri Qua stanno gli altri Si sta coprendo la testa Perché vuole dormire Poi abbiamo un'altra Attenzione Si sta ancora fissando Mosse Mosse Guarda Guarda come è brutto Guarda Cazzo guardi guarda quello lì sopra proprio bello quello come si mette incredibile attenzione altre scimmie qua ci sono quelle più belle queste guarda quanto sono belle ci sono dei motriciattoli qui dentro ma proprio piccoli piccoli come non so che non si vedono guarda quanto è piccola quella cosa è una scimmia quella guarda quanto è piccola quante casse è piccola quella cosa quanto guarda quanto è piccola confronto al mio dito ecco il bambino momento culo culo non c'è un'altra cosa non mi tolgo stai non ho mai trovato Ma pure adesso, ma pure adesso. Ok, abbiamo altre domande, Davide? Sì, sì. In pratica, no? Quando fai video, quanto ci metti per farla? Perché sono benissime. Allora, allora, dipende. C'è il presepe e il cifre. Perché? C'era scritto? Quanto è bello. C'era scritto? Tra gli animali pericolosi, i lemuri. Ma io manco. Ehi, stai cadendo. Oh, i pinuccio. Oh, i pinuccio. Ma che cazzo? Guarda la coda, quant'è lunga. È più lunga la coda, perché è lunga qua? È una sciglia. No. Ma che c'è? Ma che c'è? Ma che c'è? È una sciglia. Ma lì sono delle scimmie. Queste duffe. Non stanno facendo un cazzo. Queste duffe. Bellissimo. C'è un tizio. Oddio, c'è un tizio. Ciao, salve, salve. Ciao. No, fa il video. Guarda là. Spettacolo. Sta facendo il suo spettacolo. Capito il colore. Ora saliremo qui sopra. La ruota panoramica. Questo sì che è bello. Guarda lo stadio di Fasano come si pensa. Ma guarda, vedi che stanno i due figli. Oddio, stanno. Guarda che figata. Allora, sono lo stadio di Fasano. È felice che stanno. C'ho paura. Troppo alto per me. Che figata. Ovviamente le foto che sto facendo. Ora devo fare un nuovo coso di Instagram. Quindi le vedrete tutte là. Questo è lo stadio bello. Mamma mia. Di nuovo, di nuovo, di nuovo in alto. Che be' ma finisce subito il giro. No, c'è una bella montagna russa. Mamma mia. Finisce subito il giro. Che triste. Sì, non ci ferma. Oh, la madonna. Di nuovo, un altro giro, ragazzi. Un altro giro. E' un altro giro. E' un altro giro. Mamma mia. Eh, il quarto giro mi ammazzo, eh. Si è fermata. Mi sto cacando sotto, eh. Quello che cazzo è? Si sta vibrando. Che cazzo sta succedendo? No. No. Che cazzo sta succedendo? No. Che cacando sotto, eh. No. Oh, la madonna. No. Non. Che cazzo. Che cazzo sta succedendo? Grazie a tutti